Gli studenti di alcune classi dell'Istituto Tecnico Commerciale Romagnosi hanno ascoltato stamattina l'esperienza della storica Valcolatte, impresa che fattura ogni anno 60 milioni di euro, prima di una serie di aziende che durante l'anno scolastico saranno invitate a salire in cattedra e a raccontare come contrastare la crisi ai futuri imprenditori e contabili. Qual è il segreto che hai oggi raccontato ai ragazzi? Ma noi crediamo che i segreti non ce ne sono, noi puntiamo sulla qualità, puntiamo sugli investimenti, puntiamo sull'estero ed attualmente questa scelta ci ha premiato, quindi continueremo su questa strada. Diceva che il costo del lavoro però in Italia non è particolarmente competitivo. Questo è l'insieme di tutta l'organizzazione italiana che non è competitiva, non è solo il costo del lavoro, è tutta la burocrazia che rende più difficile lavorare in Italia. Quanto costa un dipendente in Italia e quanto uno in Ungheria dove avete appena aperto una nuova sede? In Italia un dipendente costa attorno ai 36.000 euro annuali, in Ungheria costa circa 10.000, meno di 10.000 euro annuali. Qui ci sono dei ragazzi molto giovani, che cosa si sente di consigliare loro? In questo momento credo che l'Italia abbia difficoltà, è brutto dirlo perché sinceramente non è facile dire a un ragazzo di andare all'estero, però serve anche per cambiare un po' la mentalità italiana.